Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con 15 minuti con la trasmissione di approfondimento di Free TV. Anche oggi ci occuperemo del distesto finanziario di Comiso, così come abbiamo fatto anche con altri consiglieri comunali, altri capigruppo. Oggi è qui con noi il consigliere comunale di Progresso Sud, Gaetano Cotonaro. Buonasera consigliere. Buonasera a te Salvo. Allora consigliere, insomma iniziamo a parlare subito del consiglio comunale del 20 gennaio quando è stato preso atto del distesto finanziario di Comiso, un distesto di 30 milioni di euro. Ecco voi come consiglio comunale non potevate non prendere atto della situazione, siete stati costretti vostro malgrado. Anche se abbiamo fatto un ulteriore tentativo, perché prima del 20 c'è stato un altro consiglio comunale, abbiamo rinviato la seduta di altri 15 giorni per vedere se arrivava qualcosa dalla regione, però non è arrivato niente ed è stato inevitabile prendere atto di questo distesto. Il distesto finanziario non è una bella cosa, sia per i cittadini, per i dipendenti comunali, perché ahimè c'è qualche anno in cui devono aumentare le tasse, devono diminuire i servizi, un bel po' di cose che graveranno sulle tasche delle famiglie comisane. Ecco 25-30 milioni di euro si parla di questa cifra. Secondo lei consigliere è tutto imputabile la responsabilità a questa amministrazione oppure bisogna partire da lontano? No, non penso che sia tutta colpa di questa amministrazione. È anche vero che nel passato sono stati fatti degli errori, però questo non giustifica che questa amministrazione ne poteva compiere altri. Noi ci eravamo presentati agli elettori come quelli che dovevano risanare queste casse comunali. Ahimè questa amministrazione invece di risanare ha fatto un po' di danno anche. Ecco rispetto a quando vi eravate presentati, lei e anche altre forze politiche come il consigliere della Torre Pasquale Puglisi, Grande Sud, avete deciso poi di uscire a un certo punto da questa maggioranza. Spiegami i motivi. Sì, infatti il motivo è stato proprio questo, perché noi come dicevo prima ci siamo presentati come quelli che dovevamo risanare le casse. Invece più passava il tempo, più lavoraggine si faceva grande. Giustamente non c'era tutto questo dialogo anche col sindaco, con qualche altro gruppo politico dell'ex maggioranza e abbiamo deciso di uscire fuori di questa collezione. Ecco da quando in consiglio comunale non c'è più la maggioranza, si può dire che i lavori sono bloccati, qualsiasi atto che viene portato in consiglio viene bocciato e anche il consuntivo addirittura del 2010, siamo nel 2012, non è stato approvato e questo ha creato anche molta confusione ora in vista del dissesto, perché si dice che bisognerà partire dal 2011 per cercare di risanare le casse, ma già il 2011 è trascosto, quindi 5 anni non potrebbero bastare per recuperare 25-30 milioni di euro, per i cittadini si preparano tempi bui. Non è una bella situazione, anche se il sindaco fino a qualche mese fa lui andava dicendo che fare il dissesto finanziario era la cosa più sana, più giusta, poi c'è stata una marcia indietro dicendo di evitare questo dissesto, neanche lui diciamo bene o male ha capito bene bene la situazione, però certo, vediamo. Adesso il prossimo consiglio del 2 marzo si parlerà dell'aumento delle tasse, dei tributi locali che verranno messi al massimo per cercare di recuperare quanto più possibile, però non può essere questa la sola soluzione, pensare sui cittadini e poi su responsabilità che non hanno assolutamente loro. Infatti l'aumento delle tasse è una cosa non sbagliata, sbagliatissima, proprio in questo periodo perché lo vediamo tutti, le famiglie fanno sforzi enormi per arrivare alla fine del mese e quando ogni mese arriva la bolletta della luce, del gas, ora si deve aumentare pure la tarso, l'acqua, anche aumentando la tarso vedendo ultimamente come il servizio ha comiso che non è dei migliori, cioè le persone non solo non hanno il servizio, ma devono pagare anche l'aumento, perché con questa benedetta differenziata che ancora è partita, è partita no male, malissimo. Ora ultimamente mi giunge voce che in alcune strade non basta più il porta a porta, dunque le persone devono prendere il rifiuto, lo devono portare negli oppositi cassonetti distanti anche 500-600 metri della loro casa e devono pagare in più l'aumento, io non la vedo una cosa. Ecco dunque all'aumento delle tasse appunto corrisponde un taglio dei servizi, anche servizi essenziali come c'è insomma il trasporto scolastico che ha subito dei disagi, anche se senza gli anziani, manutenzione delle strade, insomma una serie di servizi che adesso verrà a mancare o che comunque sarà fortemente penalizzato. Ma l'attenzione delle strade, peggio di come siamo messi penso che a Comiso negli ultimi 15-20 anni, io non lo ricordo, io invece dico un'altra cosa, io mi sarei aspettato da questa amministrazione, dal sindaco, degli assessori, vedendo che si è determinato questo dissesto a Comiso, io mi sarei aspettato che loro lanciassero un segnale del tipo di ridursi anche loro un po' lo stipendio, non dico di azzerare, ma almeno di dimezzarsi lo stipendio, perché oggi come oggi almeno tu lanci un segnale, perché il sindaco, gli assessori, non è che tutti campano di politica, loro hanno i suoi bei lavori, tutti i professionisti, lancierebbero un bel segnale facendo un'azione di questo genere. Ecco voi come Progresso Sud, insieme alle altre forze di opposizione, state ragionando per intavolare un accordo, possiamo dire, un tavolo aperto anche alle forze sociali della città per costruire un'alternativa. Parlando poi anche in termini pratici, secondo lei consigliere, potete andare tutti insieme, PD, Progresso Sud, Grande Sud, oppure alla fine questo come l'avete detto? Oggi noi abbiamo un buon dialogo, sia con Grande Sud, sia con il PD, con il professore Puglisi, abbiamo un bellissimo dialogo, chissà, andando avanti si può trovare una, come posso dire, un'intesa con entrambi. Per quanto riguarda uno dei punti che venisce, sicuramente se è quello delle dimissioni del sindaco, più volte le avete chieste, le avete invocate, però non sono mai arrivate. Ma le dimissioni del sindaco dovevano arrivare, secondo me, automaticamente, quando è giunto che in consiglio comunale non aveva più la maggioranza. Beh, prova in età il sindaco di Scicli, che si è dimesso, non avendo maggioranza in consiglio, non avendo il supporto di chi era iniziato con lui, ha deciso di dimettersi e penso che abbia fatto una grandissima figura. Ecco, a questo proposito si parla anche di una possibile sfiducia al sindaco, però per la sfiducia servono i numeri, quindi in poche parole serve qualcuno o dell'Udc o anche qualcuno del PDL, si parla di malumori interni anche al PDL, che decide di passare all'opposizione o comunque di votare una sfiducia al sindaco. Ma il PDL non penso, penso che ci vorrebbero i due dell'Udc. Sì, però l'Udc, come si vede oggi, un giorno dice che controlla l'amministrazione, un giorno difende l'amministrazione, neanche loro sanno cosa fare. Ecco, nei comunicati presidenti di qualche settimana fa, loro avevano preannunciato che in caso di dissesso erano pronti ad uscire, però sono ancora invece dentro l'amministrazione, c'è comunque un dibattito forte al loro interno. Infatti, come dicevo prima, c'era il comunicato, mi sembra, dell'onorevole Lavima, che in caso di dissesto finanziario loro dovevano togliere l'appoggio al sindaco, questo non è successo. Ma non è successo perché o sono attaccato alle poltrone queste persone, però o loro staccano la spina adesso o non possono venire a giugno del 2013 a dirci facciamo un batto con tutte le altre forze politiche, perché è bello, tu stai fino all'ultimo giorno a governare, governare, fra parentesi, con questa amministrazione e dopo tu cerchi di fare indesa con altri partiti. Se loro fanno la scelta di restare al Coppidiel, ben per lui, per loro, però non possono venire all'ultimo a fare una grande coalizione con altri partiti. Consigliere Cottonaro, ci avviamo verso la conclusione, quali sono i punti in particolar modo che voi come Progresso Sud volete attenzionare per il futuro di questa città e per cercare di lanciare una ripresa dal modo di vista economico? Ma diciamo, la prima cosa, è inutile che lo ripeto a dire, sono rifare le strade perché veramente sono in uno stato pietoso, ci sono alcune strade che sembrano proprio delle cosiddette trazzere. Faccio qualche esempio, c'è la via Garzia Lorca che è una strada, se la vedete voi stesso, è penosa. La via Silvio Pellico che è stata rifatta con i finanziamenti della regione, ma è stata fatta no male, malissimo, ci vogliono proprio forse i cavalli per passare quella strada. E poi qualche altra cosa può essere la zona PIP che ultimamente da 3-4 anni è stata letteralmente abbandonata, abbandonata non viene effettuata la raccolta dei rifiuti in quella zona PIP, diciamo la zona artigianale, non viene fatta la raccolta differenziata, siamo a zero sorveglianza, infatti la sera succede di tutto, mancano i tombini ed è una cosa pericolosissima. più volte ho segnalato il fatto all'assessore Castibba, però più di una volta sì, ora vediamo, ma non è successo mai niente e potrebbe diventare molto pericoloso perché infatti mancando i tombini sulle banchine, sui marciapiedi non si sa mai un bambino, anche un cane, è una cosa brutta e non viene fatta. Un po' rivalutare questa zona, anche la strada che collega l'ex mercato ortofrutticolo con questa zona sempre se ne parla, se ne parla, ogni tanto spunta qualche comunicato di qualche onorevole, di qualche consigliere provinciale che questa è benedetta strada, sì, arriva nei fonti, ora si fa, ora non si fa. Il fatto è che da 15 anni, 20 anni, da quando c'è questa zona, che ancora la strada si deve fare. Bene, noi ringraziamo il consigliere comunale Gietano Cottonaro per essere stato con noi, grazie consigliere. Grazie a voi e buona serata. L'appuntamento con i nostri telespettatori e con un'altra puntata di 15 minuti con, ricordo che potrete rivedere questa puntata su internet sul nostro sito free tv online 1.it. Buon proseguimento. Grazie a tutti.